Bentornati amici, visto il successo del mio ultimo video su una recensione di un flash che era il Godox SK402, sono qui oggi per portarvi un flash un pochettino più evoluto che è il mitico AD400 Pro. Cominciamo col dire che all'acquisto la D400 Pro viene in questa secondo me bellissima valigetta rigida che quindi consente un trasporto molto agevole di tutte le componenti per cui è molto molto facile trasportare questo flash. Per cui diventa molto facile portare in giro questo flash, lo si può sbattere in bagagliaio all'interno della sua borsa rigida che andrà a proteggerlo dagli urti e ci permetterà anche di portarlo in giro distribuendo meglio il peso perché ha una praticissima tracolla con cui possiamo portarcelo in giro a spalla. All'interno della confezione troviamo ovviamente un cavo per la presa muro e un trasformatore che ci fornisce anche i livelli di carica della nostra batteria perché questo flash come andremo a vedere funziona a batteria. Quindi è possibile utilizzarlo anche a corrente con un dispositivo aggiuntivo che però non è incluso. Quindi se vogliamo usarlo attaccato alla corrente dobbiamo comprare un adattatore che vada ad essere infilato direttamente nella presa muro. Mentre questo serve solamente per la ricarica della batteria. La prossima cosa che andiamo a vedere è proprio la batteria. Qui abbiamo una batteria che è una VB400P che appunto è proprio quella dedicata al modello AD400 Pro. È una batteria che eroga una potenza di 400 watt e questo flash riesce a elargire una potenza con un numero guida di 72. Quindi in realtà come abbiamo visto nel video precedente di cui vi lascio la card questo flash è meno potente dell'SK400 perché qui riusciamo ad avere un numero guida pari a 72 contro il 213 dell'SK402. Tuttavia stiamo parlando di prodotti molto diversi. Infatti qui stiamo parlando di un flash che è più costoso e più performante. Andiamo a vedere perché. Intanto vi faccio vedere quello che è il flash vero e proprio che è questo qui. Come potete vedere è molto molto compatto. Adesso noi andiamo anche a alloggiare la batteria per cui andiamo a prendere questi quattro poli che vanno a essere infilati negli appositi buchetti sulla testa e andiamo a farlo scorrere in posizione. Così la testa flash è completa. Qui sotto come potete vedere abbiamo una maniglia che può essere utilizzata per orientarlo e abbiamo già una staffa che serve per andare a posizionare il flash sopra i nostri stativi in una situazione da studio. Ovviamente sia la maniglia sia la staffa possono essere rimosse con delle viti nel caso volessimo utilizzare il flash in un'altra maniera. Nel caso volessimo agganciarlo a un cavalletto di altro tipo qui c'è la vite col passo più grande. Quindi abbiamo tutta una serie di possibilità che riguardano la testa flash. La lampadina può essere rimossa. Una cosa molto importante è che questa testa flash nativamente viene con la monta Godox nativa. Ora in questo momento la monta Godox io l'ho staccata perché è una monta che serve per gli accessori compatibili Godox ma invece io l'ho rimossa perché sono andato ad attaccare la monta nativa Bowens che mi serve molto più spesso perché nel momento in cui io voglio andare ad attaccare un qualsiasi modificatore vedete che qui c'è la monta Bowens e io andrò a usare molto più spesso questa piuttosto che quella nativa Godox. Quindi io vado a rimuovere la sua protezione nativa che si stacca semplicemente con un bottone e vado a montare l'adattatore Bowens che viene fornito insieme a tutto il kit. Ci sono due vitine che vengono avvitate con una brugola e il nostro flash è pronto a funzionare con tutti i modificatori Bowens. Quindi possiamo mettergli un beauty dish, possiamo mettergli un softbox, quello che vogliamo e sarà compatibile con tutti i modificatori che abbiamo già in casa potenzialmente. Ora perché vi dicevo che questo flash non è tanto da mettere in competizione con l'SK402? Beh innanzitutto sono due flash di fascia molto diversa nel senso che questo non è più considerato un entry level, è un flash già di fascia medio evoluta. Innanzitutto la cosa più bella di questo flash è che ha una batteria quindi questo flash può essere tranquillamente utilizzato in esterna e può essere utilizzato anche in interna ma senza più l'ingombro dei fili. La batteria ci garantisce una durata di 380 lampi, si intende 380 lampi alla potenza massima, quindi nel momento in cui andiamo a diminuire la potenza ovviamente i lampi saranno di più. Io vi dico che alla potenza massima l'ho usato raramente perché di solito non ce n'è nemmeno bisogno e vi dico che sono arrivato tranquillamente a mille lampi in una sessione senza avere problemi di durata di batteria. Magari stavo scattando a un sedicesimo, sono arrivato tranquillamente a mille lampi quindi è un flash che ha anche una durata che ci permette di lavorare in maniera assolutamente consistente. Io tra uno shooting e l'altro non lo vado nemmeno a ricaricare tutte le volte perché su uno shooting mediamente scatto f16 e faccio 200 foto e il giorno dopo devo fare la stessa cosa sono tranquillo che la batteria mi dura. Ora ovviamente questo flash è compatibile con i trigger di Godox quindi se io vado a utilizzare un X-Pro C in questo caso io ho l'X-Pro versione Canon ma se abbiamo l'X-Pro N versione Nikon funziona benissimo lo stesso quindi posso gestire tutto tramite questo comodissimo device. Posso anche utilizzare il cord quindi posso anche andare ad aprire i sportellini che ci sono qui sopra il vano di alloggiamento e posso andare a inserire un trigger di vecchia generazione se è questo che voglio oppure posso utilizzare la fotocellula per far lavorare il flash in modalità slave quindi posso farlo attivare dal lampo di un altro flash. Le modalità slave sono due ovviamente abbiamo la modalità slave 1, la modalità slave 1 è quella che si usa il 90% delle volte perché attiva il flash esattamente allo scatto del lampo del flash master che stiamo utilizzando. La modalità S2 invece serve per quei flash che hanno il pre-lampo quindi la mia testa flash andrà a leggere il pre-lampo del flash master e andrà poi a scattare sincronizzandosi col secondo lampo. È una modalità che si usa ormai raramente perché gli speed light che si usano con pre-lampo soprattutto in un contesto di slave sono pochi è molto più comodo ormai utilizzare direttamente la modalità slave 1 e sincronizzare sul lampo principale. Beh ma andiamo ad accenderlo e vediamo un pochino quali sono le funzioni principali. Nel momento in cui lo vogliamo accendere qui abbiamo il pulsante di accensione io vado a premerlo vedete che quello che succede è che si illumina il display a questo punto compare il simbolo della ghiera e vedete che si spegne da solo questa è una modalità di sicurezza perché se viene premuto il bottone mentre il flash è nella borsa o mentre non sta venendo utilizzato si spegne da solo quindi non si scaricherà la batteria perché si è premuto il bottone per sbaglio. Nel momento in cui io premo il bottone devo girare la ghiera e soltanto adesso il flash è veramente acceso quindi questa è una cosa molto apprezzabile perché se dovesse essere riposto e si dovesse premere il bottone potrebbe scaricarsi tutta la batteria prima del mio shooting e questo non succederà perché il flash si spegnerà automaticamente a meno che noi gli diciamo che vogliamo veramente accenderlo. Ora andiamo a vedere un pochettino che cosa possiamo fare con questo flash. Innanzitutto qui il primo bottone che vediamo è il bottone gruppi e canali. I gruppi variano alla pressione del bottone quindi vedete gruppo A gruppo B C D E e si ritorna al gruppo A. Ovviamente il gruppo serve nel momento in cui stiamo lavorando con un trigger quindi con per esempio l'X Pro C noi stiamo dicendo a questo flash che deve lavorare sul canale A. Quindi nel caso ci siano più trigger o nel caso ci siano interferenze possiamo dirgli di andare a lavorare su un canale ben preciso se invece teniamo premuto il pulsante gruppi e canali andiamo a lavorare sui gruppi. Quindi abbiamo tante possibilità di personalizzazione di quello che è il canale che stiamo andando a utilizzare per non avere interferenze radio da parte di altri trigger o di altri device presenti nella zona. Questo vi dico a me non serve praticamente mai perché usandolo prevalentemente in studio o in contesti di esterna ma in contesti molto isolati non ho mai avuto problemi di incompatibilità con altri device o di interferenze quindi è bello sapere che c'è. Secondo me lo userete molto poco. Secondo bottone che andiamo a vedere come vedete c'è il simbolo dell'antennina. Questo bottone serve per disattivare i trigger wireless. Ora nel momento in cui io magari sto lavorando con un sync cord e con un dispositivo wireless magari ci sono due fotografi che utilizzano questi due dispositivi posso andare semplicemente a premere questo bottone nel momento in cui sta scattando uno dei due fotografi vado a ripremerlo quando scatta l'altro fotografo e così le due modalità non interferiscono. A me non è mai successo è bello sapere che lo si può fare comunque è bello sapere che si può escludere il nostro trigger wireless per un breve periodo magari per fare dei test magari per escludere uno studente che sta lavorando con noi e che quindi in quel momento non sta scattando è bello sapere che c'è questa possibilità. Andiamo avanti e vediamo che abbiamo un tasto mode. Questo bottone serve a passare tra la modalità manuale che è quella che io uso il 100% del tempo. Se lo andiamo a premere abbiamo la modalità multi che ci permette di lavorare in modalità stroboscopica quindi possiamo dirgli che deve fare più di un lampo contemporaneamente magari deve fare due lampi tre lampi quattro lampi possiamo andare a impostare questa cosa. Se lo andiamo a premere nuovamente abbiamo la modalità TTL. La modalità TTL è interessante perché TTL sta per through the lens quindi significa che l'esposimetro della nostra fotocamera andrà a leggere la scena come fa sempre perché noi abbiamo sempre un esposimetro interno che ha una lettura su cui abbiamo un minimo di controllo perché gli possiamo dire che deve essere spot che deve essere matrix. Gli possiamo dire di leggere la scena e di dirci come dobbiamo impostare la fotocamera se siamo in automatico per esempio. Questo è quello che succede anche quando utilizziamo un telefonino. Nel momento in cui noi andiamo a utilizzare la modalità TTL l'esposimetro della nostra camera leggerà la scena e se stabilirà che è una scena molto buia andrà a dire al nostro flash di usare una potenza maggiore. Quindi questo è utile magari se stiamo scattando in esterna o se stiamo scattando in un contesto dinamico. Faccio un esempio il primo che mi viene in mente se stiamo usando una testa flash per scattare un evento, un concerto magari dove c'è una situazione di luce che cambia. Ora non vi lasceranno mai probabilmente scattare un concerto con delle teste flash sul palco. Però se dovesse succedere e ogni tanto capita perché comunque ho diversi studenti che mi hanno detto che usano questo tipo di flash durante degli eventi. Se dovesse succedere al variare dell'illuminazione sul palco varierà anche l'illuminazione della nostra testa flash senza che noi dobbiamo stare continuamente a inserire dei nuovi valori. Quindi esistono dei contesti in cui la modalità TTL può servire a qualcosa. Io non la uso mai perché non faccio più concerti, non faccio più eventi, lavoro prevalentemente in studio o comunque in contesti di luce controllata. Quindi still life, ritratto o foto di interni. Comunque tutti i contesti dove la luce non cambia se non sono io a decidere che deve cambiare. Per cui TTL non è per me. Saltiamo il tasto menu che andremo a vedere successivamente. Subito dopo abbiamo il tasto H. È il tasto del high speed sync. Questa è una modalità che io per ora non ho ancora mai utilizzato però ve la spiego lo stesso perché è interessante. Sapete bene che nel momento in cui stiamo utilizzando un flash la velocità di sincronizzazione del nostro shutter dovrà essere un duecentesimo di secondo. Massimo un duecentocinquantesimo di secondo perché superato quel tempo di otturatore cominceremo a vedere la tendina scura su tutte le nostre foto. Quindi avremo l'otturatore che non sincronizza più bene con il lampo e quindi avremo la foto tagliata a metà. Questo succede con pressoché tutti i flash con pressoché tutte le fotocamere. Quindi è una cosa che quando si comincia a scattare con flash può lasciare perplessi perché non si capisce come mai e nessuno te lo spiega. Io l'ho imparato a mie spese durante la mia prima sessione in studio perché ho provato ovviamente da principiante ho provato a lavorare con i tempi di otturazione per modificare la luce ambientale anche se stavo scattando col flash. Questo è sbagliato perché quando si sta scattando col flash il tempo dovrebbe essere quasi completamente ininfluente. Infatti il lampo è molto più rapido dell'otturatore e quindi non si usa il tempo di otturazione per modificare la luce ma si usa la sensibilità ISO o ancora meglio l'apertura. Ho commesso questo errore da principiante sono andato poi a scoprire come mai ovviamente il difetto l'ho risolto subito nel senso che giocandoci ho capito che non dovevo andare oltre un duecentocinquantesimo se no si presentava quel problema ma non avevo capito perché. Il problema fondamentalmente è che il lampo non sincronizza con la tendina dell'otturatore perché hanno due tempi diversi nel momento in cui io vado a premere il pulsante H quindi high speed sync io posso scattare fino a un otto millesimo di otturatore quindi sostanzialmente il massimo che qualunque fotocamera mi consenta di scattare e avrò un lampo con una durata diversa che andrà a coprirmi quindi l'intero lasso di tempo che la tendina del mio otturatore sta aperto. È una modalità interessante perché in certi casi magari se voglio fare splash fotografi o cose del genere o se voglio scattare non so se avete presente quelle pubblicità con il bicchiere di cristallo che viene attraversato da un proiettile o da una martellata se volete fare una cosa di quel tipo dove servono delle velocità veramente supersoniche questo pulsante può tornare molto utile non si usa spesso e io vi sconsiglio di lasciarlo abilitato perché comunque va a interferire sul normale funzionamento del flash quindi potremmo avere delle variazioni di colore della luce emessa dal nostro flash e potremmo avere una durata della batteria inferiore perché stiamo andando ad agire sulla durata del lampo quindi non lo lasciamo sempre inserito però è bello sapere che c'è la possibilità di usarlo nel caso stessimo facendo per esempio splash photography. Bottone subito sotto abbiamo il bottone della luce pilota nel momento in cui noi lo andiamo a premere vedete che si accende la luce pilota. Luce pilota che attualmente ha una potenza del 20% io posso andare a variare la potenza ovviamente se tengo premuto il bottone comincia a lampeggiare e adesso io posso variare la potenza della mia luce pilota vedete che cambia un'altra cosa che posso fare ecco quando superi il 20% sentite quando si supera il 20% di potenza della luce pilota entra in funzione la ventola di raffreddamento quindi questa è l'ennesima cosa da tenere a mente perché dio non voglia ma se la stiamo usando per fare video dobbiamo sapere che entra in funzione quindi può avere un rumore che va poi a essere fastidioso infatti c'è anche il simbolino qui in basso che ci avvisa che la ventola è entrata in funzione io adesso abbasso la luce torno sotto il 20% e la ventola si ferma subito. Un'altra cosa molto interessante che vi faccio vedere è che se premiamo nuovamente il pulsante della luce pilota entriamo vedete che la ventola riparte entriamo in modalità prop prop significa proporzionale significa che la luce pilota avrà una potenza proporzionale alla potenza impostata del mio flash quindi avrà un'intensità che varia a seconda della luce del mio flash e quindi mi aiuterà a capire quello che sarà il risultato finale di nuovo è interessante sapere che questa modalità c'è perché così quando io aumento la potenza del mio flash vedrò un aumento proporzionale di luce pilota e sarò quindi in grado di prendere delle scelte consapevoli vado a premere nuovamente il bottone e la luce pilota si spegne così smette quel rumore fastidioso della ventola. Siamo arrivati al fondo e qui nuovamente abbiamo il pulsante di accensione l'ultimo pulsante che abbiamo è il pulsante del lampo test quindi noi possiamo premerlo per avere un lampo di prova ovviamente c'è il bip che ci segnala che il flash è di nuovo carico una delle cose più belle di questo flash sono proprio i tempi di ricarica infatti abbiamo dei tempi di ricarica che vanno da 0.1 a 0.9 mi sembra a seconda della potenza quindi in pratica abbiamo un tempo di ricarica di un secondo pochissimo meno di un secondo alla massima potenza quindi sostanzialmente questo flash è in grado di fare un lampo al secondo il che è interessante perché non ci consente ovviamente di sfruttare al massimo la raffica della nostra fotocamera specie se abbiamo un'ammiraglia che fa 800 triliardi di scatti al secondo però comunque ci permette di arrivare a un lampo al secondo che è comunque tanto. A questo punto ci avventuriamo un pochino all'interno del menu perché il pulsante menu l'abbiamo saltato poco fa per cui adesso andiamo invece a premerlo. Ora la prima cosa che vi faccio vedere è che la prima voce di menu si chiama color. Ora questo flash ha una temperatura colore del lampo che viene emesso che dovrebbe essere standard e dovrebbe essere il classico 5600 kelvin che è la temperatura standard per la stragrande maggioranza dei flash. Ora però che cosa succede? Nel momento in cui noi scattiamo a una data potenza diciamo che scattiamo a potenza piena andiamo poi a diminuire la potenza e andiamo a scattare a un 64esimo ovviamente le impostazioni sono completamente cambiate per cui il colore del flash non sarà lo stesso. Questa modalità color che in questo momento è su off io adesso vado a premere set all'interno della rotella poi vado a girare la rotella e lo vado a mettere su on. Vedete che in questo momento lui già scatta io ora vado a premere menu. Nel momento in cui sentiamo questo bip di avviso che è fastidiosissimo e la luce del lampo test lampeggia io adesso lo vado a far smettere premendo il lampo test. Andiamo a capire che cosa è successo. Fondamentalmente noi qui stiamo lavorando con una potenza di un 32esimo. Nel momento in cui noi andiamo a scattare a un 32esimo come ho fatto io adesso e andiamo poi a variare la potenza. Vedete che io vario la potenza. In questo momento sto lavorando a potenza piena e non sto avendo nessun segnale di errore. Questo che cosa significa? Il flash mi sta dicendo con la modalità color on mi sta dicendo sostanzialmente che il prossimo lampo avrà una temperatura colore della luce abbastanza simile al lampo precedente. Se io vado a diminuire la potenza vedete che immediatamente invece mi segnala che il colore della luce sarà diverso. Quindi quando io sento questo segnale vado a premere il lampo test e il lampo successivo avrà un colore più consistente. Questa cosa non succede sempre ovviamente. Succede al variare della potenza perché nel momento in cui io cambio drasticamente la potenza l'emissione sarà diversa e se il flash si è ricaricato impostato in un certo modo e io lo vado a impostare in un altro modo il colore non sarà più consistente. Quindi vado a fare un lampo test per scaricarlo e nel momento in cui si ricarica con le nuove impostazioni con la nuova potenza non mi darà più problemi di colore tra un lampo e l'altro. Questo è importante se stiamo facendo uno shooting abbastanza lungo e consistente dove vogliamo che il nostro colore rimanga uguale durante tutto lo shooting perché stiamo facendo una cosa che poi deve avere una sua coerenza. Quindi andiamo ad attivare questa modalità in maniera tale che al variare delle impostazioni variare drastico ovviamente. Se scendiamo di un terzo di stop non succede niente ma se passiamo da un intero a un sessantaquattresimo avremo sicuramente una variazione di colore. Quindi è interessante ricordarsi questa cosa perché può tornare molto molto utile. Torniamo all'interno del nostro menu e io ora disabilito questa funzione perché se no magari si mette a fare beep ogni due secondi. Ora prossima voce di menu abbiamo la modalità slave. Ora su off abbiamo off s1 s2. Come vi dicevo s1 si usa per sincronizzare sul lampo di un altro flash impostato come maestro mentre s2 si usa per sincronizzare con il pre lampo di un altro flash. Io non utilizzo mai il pre lampo non ho nemmeno dei device impostabili in quella maniera quindi utilizzo sempre s1. La prossima voce di menu è model che sta per modeling light quindi la luce pilota. Questo è interessante perché abbiamo continua o interrotta. Questo significa che nel momento in cui noi stiamo lavorando e abbiamo la luce pilota accesa continua significa che la luce pilota rimarrà accesa anche quando scattiamo. Invece interrotta significa che la luce pilota si spegnerà quando noi andiamo a scattare e si riaccenderà un secondo dopo. Ora io non mi ricordo perché è impostata su continua perché probabilmente stavo facendo qualcosa per cui mi dava fastidio che si spegnesse però io in questo momento invece la metto su interrotta. La metto su interrotta per un motivo ben preciso perché nel momento in cui io scatto se la mia luce pilota è accesa può introdurre una colorazione lievemente diversa perché comunque è una luce che c'è stiamo introducendo della luce sul set e quindi io potrei non volere quella colorazione in più potrei non volere quel quantitativo di luce in più perché comunque la potenza è calcolata sul lampo se io ho una lampada in più che magari è proporzionata alla potenza del mio flash come vedevamo prima quindi magari ha una potenza anche consistente potrebbe crearmi un vero e proprio problema durante i miei scatti quindi io voglio spegnerla quando parte il mio lampo e in questo momento l'ho impostata come spenta. Prossima voce che andiamo a vedere è stand by. La voce stand by serve semplicemente a stabilire dopo quanto tempo il flash va in modalità stand by qui è impostato su 60 minuti si può impostare off 30 minuti 60 minuti io lo lascio su 30 minuti adesso tanto non va mai in stand by perché quando non lo uso lo spengo. Prossima voce è light qui abbiamo la possibilità di impostare la luminosità del nostro display quindi nel momento in cui andiamo a premere gli possiamo dire che deve rimanere acceso per 15 secondi oppure che deve essere sempre spento modalità off oppure che deve essere sempre acceso modalità on ovviamente questo andrà a incidere sul consumo della batteria ma in minima parte quindi se esistono dei contesti dove magari stiamo lavorando al buio e vogliamo che il display non si spenga mai lo mettiamo su on io in realtà lo lascio sempre su 15 secondi anche non tanto per una questione di consumo ma perché non mi serve a niente che stia perennemente acceso quindi lo lascio su 15 secondi e va benissimo così. La prossima voce è delay questo è interessante perché qui ovviamente di default è off però nel momento in cui noi la andiamo ad attivare abbiamo la possibilità di dargli un ritardo in decimi di secondo quindi possiamo dire per esempio che allo scatto dell'otturatore il flash deve scattare dopo un secondo dopo 5 secondi dopo 30 secondi arriva fino a 30 secondi questo è interessante perché noi potremmo per esempio stare scattando di notte potremmo premere il nostro otturatore e fare un movimento camera quindi avere delle luci di un ipotetico fondale notturno magari di una città di notte con uno sfondo mosso perché stiamo scattando a mano e dopo un secondo entra in funzione il flash e illumina il nostro soggetto principale quindi può essere molto utile per creare degli effetti artistici particolari è bello sapere che queste funzioni ci sono perché se sappiamo che ci sono poi ci viene in mente anche come usarle. Prossima voce di menu è units ora questa è una cosa che io non ho ancora mai utilizzato però è importante sapere che c'è questa cosa perché questo mi permette di andare a sincronizzare fino a 4 unità flash abbiamo la possibilità di usarne 2 3 o 4 è interessante perché ci permette di abbinare dei flash a dei numeri quindi io potrei decidere per esempio che questo mio flash è il flash numero 1 un altro flash è il flash numero 2 e un altro flash è il numero 3 il numero 4 oppure potrei decidere di metterli a 2 a 2 questo e un altro sono il numero 1 altri due flash sono il numero 2 questo a che cosa mi serve fondamentalmente io andrò a scattare su cavalletto e gli dirò che al primo scatto devono scattare i flash del gruppo 1 al secondo scatto i flash del gruppo 2 a me questo fa pensare immediatamente all'esposizione multipla perché nel momento in cui magari sto scattando un soggetto di vetro trasparente e voglio illuminarlo prima da una parte e poi dall'altra ma non voglio che il primo scatto mi crei dei riflessi sulla parte opposta e non voglio che il secondo scatto parimenti mi crei dei riflessi sulla parte opposta io che cosa faccio scatto prima una foto con un'illuminazione poi un'altra foto con un'altra illuminazione dopodiché vado a miscelare i livelli all'interno di photoshop o di qualunque altro software io stia utilizzando e vado a utilizzare la modalità scolora per esempio per tirare fuori soltanto la silhouette della luce da uno dei due scatti quindi questo può essere molto utile oppure se stiamo facendo degli scontorni magari io voglio avere il mio soggetto prima illuminato bene e poi lo voglio avere solo silhouette con lo sfondo bianco quindi avere due scatti mi permette poi di andare a lavorare meglio in certi casi durante la post produzione quindi per questo la voce di menu units può essere molto utile la modalità che segue alt serve semplicemente a stabilire quali sono i flash e come collocarli nei gruppi ho selezionato da units due flash quindi qui ho la possibilità di abbinare un numero da uno a due alle mie due teste flash in maniera tale da separarle da far scattare prima una e poi l'altra andiamo ancora avanti e abbiamo la voce di menu lcd questo mi permette di agire sul contrasto del mio display lcd io lo lascio sempre a zero si può ballare tra più 3 a meno 3 ma io lo lascio sempre a metà perché comunque trovo che abbia un contrasto più che sufficiente per la lettura quindi non sono solito andare a scombinare tutte le opzioni di default perché di solito un'opzione di default funziona nella maggior parte dei casi sono cose che si cambiano solo se c'è un'esigenza specifica secondo me andiamo avanti e abbiamo id ora id attualmente è off id è una personalizzazione ulteriore che serve qualora i gruppi e i canali non fossero sufficienti laddove magari stiamo ottenendo una lezione e abbiamo diverse teste flash con diversi studenti che hanno tutti a loro volta un trigger io magari posso stabilire che il mio id di docente è univoco e fa lavorare solamente i miei flash mentre quelli degli studenti lavorano separatamente così possiamo vedere la differenza tra quello che sto facendo io e quello che stanno facendo i corsisti per esempio quindi è una possibilità ulteriore per dire a questa testa flash che deve univocamente lavorare solamente sull'id 1 piuttosto che 7 ne ha da 1 a 99 quindi ci dà veramente la possibilità di andare a impostare i nostri flash in maniera tale che ci sia una corrispondenza univoca tra flash e chi lo fa scattare di nuovo è una cosa che io non utilizzo perché non mi è ancora mai capitato di avere classi così grandi è bello sapere che c'è ovviamente un giorno riguarderò probabilmente questo video per ricordarmi che cosa c'è dentro questo flash al momento io non la uso questa funzione se qualcuno di voi la usa fatemelo sapere in un commento perché sono curioso di sapere per cosa l'avete usata perché magari l'avete usata per una cosa cui io non penso procediamo e abbiamo l'opzione beep il beep ovviamente è quel beep che si sente ogni volta che il flash scatta o ricarica quindi nel momento in cui noi scattiamo abbiamo un beep di conferma quando il flash è nuovamente pronto a scattare oppure abbiamo una serie di beep se abbiamo attivato la modalità color che ci sta segnalando che il prossimo lampo non avrà una temperatura colore consistente quindi il beep serve fondamentalmente a quello io in questo momento lo sto lasciando acceso perché comunque questo è un flash che io uso prevalentemente in studio quindi è un flash dove siamo in un ambiente di luce controllata probabilmente al chiuso probabilmente non disturbo nessuno con il mio beep quindi lo lascio tranquillamente attivo ha un consumo di batteria veramente ridicolo quindi secondo me conviene lasciarlo attivo perché il beep ci fa capire delle cose su come stiamo lavorando se il nostro flash ha dei tempi di buffer che non ci consentono di realizzare gli scatti il beep ci segnala quando il flash è pronto quindi riusciamo a capire come stiamo lavorando e come ci stiamo comportando in relazione alla nostra testa e ai suoi tempi di ricarica ultima voce di menu reset questa serve se abbiamo fatto castronerie vogliamo ripristinare le impostazioni di default andiamo a premere il tasto reset il nostro flash tornerà con le impostazioni di default come se l'avessimo appena spacchettato questa è una cosa da non sottovalutare perché se abbiamo fatto casino andiamo a premere reset e quantomeno ripristiniamo una condizione di normalità da cui siamo in grado di ricominciare a mettere le nostre impostazioni personalizzate che come avete visto non sono tante perché noi possiamo dirgli che stiamo lavorando in modalità manuale gli possiamo dire la potenza gli possiamo dire come vogliamo che ragioni la luce pilota non sono tante altre le cose che dobbiamo andare a impostare quindi se non capiamo più niente se il flash fa cose strane se abbiamo impostato multi in modalità strofoscopica non riusciamo più a toglierlo possiamo andare a premere reset e ripristiniamo il flash come se fosse appena uscito dall'imballo una cosa molto molto bella di questo flash che lo colloca comunque in una fascia superiore rispetto all'sk 402 che vi ho fatto vedere in un video precedente è che qui qui in basso a sinistra sotto il gruppo abbiamo la durata del lampo durata del lampo che varia in relazione alla potenza del flash quindi ovviamente se abbiamo una potenza maggiore la durata del lampo sarà maggiore se diminuiamo la potenza anche la durata del lampo sarà inferiore questa sembra una bazzecola perché spesso non ci interessa se io sto scattando in studio sto facendo un ritratto semplice diciamo che posso anche scattare a un sessantesimo di secondo nella mia stanza oscurata l'unica fonte di illuminazione sarà questo o altri flash se sto usando in batteria quindi il mio lampo andrà a illuminare quello che io desidero la mia modella è ferma non ho nessun tipo di problema ma se io sto scattando una modella che salta sul tappetino per esempio lì c'è movimento molto rapido quindi che cosa succede succede che a meno che io non vada a utilizzare lo high speed sync quindi in quel caso scatto a un otto millesimo di secondo trancio via completamente tutta la luce ambientale che ci può essere ma non vado comunque a togliere la durata del mio lampo perché la durata del mio lampo può comunque causarmi dei problemi nel senso che se il mio lampo illumina la mia modella che è saltata in aria la illumina in quel momento ma continua a illuminarla mentre sta scendendo avrò un movimento nella foto è proprio qui che entra in gioco la durata del lampo ovviamente per tutti i flash c'è una durata garantita dal produttore in questo caso noi abbiamo la possibilità di vederla a display per ogni singola potenza che andiamo a impostare questo è molto utile perché se ci serve una durata del lampo di un certo tipo sappiamo a che potenza impostare il flash per avere quella durata ovviamente se vogliamo una durata più breve perché stiamo scattando cose in movimento dovremo diminuire la potenza e questo significa che potremmo dover lavorare poi su altri parametri della nostra camera per ottenere un'esposizione ottimale oppure sulla distanza che teniamo tra il flash e il soggetto perché ovviamente diminuendo la potenza potremmo dover alzare gli iso potremmo dover aprire un pochino di più il diaframma ovviamente non andiamo a lavorare sui tempi perché lavorando sui tempi andiamo a introdurre della luce parassita ambientale che non è quello che vogliamo quando lavoriamo con i flash bene io credo che abbiamo visto sostanzialmente tutte le funzioni e le possibilità che questa piccola testa flash offre io ve la faccio rivedere in questa maniera vedete che è veramente piccola è molto portatile vedete in relazione alla mia persona occupa veramente poco spazio è veramente molto pratica e anche leggera perché pesa mi sembra un paio di chili è facile da trasportare offre dei risultati veramente eccezionali perché comunque a seconda del modificatore che gli mettiamo è una testa flash assolutamente professionale con cui possiamo ricavare dei lavori veramente eccellenti devo anche dire che si è depreciata nel corso del tempo perché quando la acquista io mi sembra di averla pagata intorno ai 900 euro adesso su amazon se non sbaglio si trova intorno ai 600 quindi è diventata anche più vantaggiosa da quando l'ho comprata io una cosa da dire che di cui non vi ho parlato in precedenza è la lampadina ora la lampadina è questa parte in vetro che vedete questa va a essere semplicemente sfilata a mano io ora non lo faccio perché quando si fanno questo tipo di lavori io preferisco indossare dei guanti quindi guanti in lattice senza polvere senza liquidi in maniera tale da non andare a sporcare la lampadina perché nel momento in cui io faccio un utilizzo intensivo del flash le impronte digitali il naturale sudore della mano piuttosto che anche dello sporco che uno può avere sulle mani perché stiamo lavorando quindi magari abbiamo stretto degli stativi che magari erano sporchi di grasso unti o pieni di polvere tutto questo residuo che si va a depositare sulla lampadina può provocare un surriscaldamento sbagliato della nostra lampada e può causare anche dei danni oltre che ovviamente andando a sporcare il vetro avremo una luce poi inquinata che viene emessa perché la luce passa attraverso questo vetrino quindi nel momento in cui noi andiamo a maneggiare la lampadina io consiglio di utilizzare sempre dei guanti in maniera tale che non andiamo a lasciare nessun tipo di residuo sul vetro della lampadina quindi ora non vado a toccarla adesso perché insomma è primavera i guanti li ho già messi via però la cosa che vi segnalo è questa la lampadina è molto molto facile da cambiare perché sostanzialmente si prende e si tira su si sfila proprio quindi ci sono tre poli che sono infilati all'interno del corpo della testa flash si sfila semplicemente viene via senza bisogno di cacciaviti o di cose strane semplicemente si sfila e viene via tranquillamente quando dobbiamo andare a sostituire la nostra lampadina ne acquistiamo una nuova devo dire che questa lampadina ho visto che si trova su amazon quindi è facile da reperire mentre per esempio le lampade dell'SK402 di cui vi ho parlato la volta scorsa ho provato a cercare la lampadina di ricambio e non l'ho trovata su amazon quindi in questo momento non c'è il ricambio l'ho trovata in dei negozi specializzati per esempio l'ho trovata da FCF a Milano io sono di Milano quindi uno dei punti di riferimento è FCF è un negozio che fa solamente foto e video quindi ha tutte le lampadine tutti i ricambi possibili e immaginabili e loro questa lampadina ce l'hanno quella dell'SK402 mentre questa è disponibile sia da FCF sia su amazon questo è bello da sapere perché nel momento in cui io dico voglio una lampadina di scorta oppure mi si rompe so quanto facilmente riesco a reperirla questa sembra essere una lampadina più facile da trovare perlomeno in questo momento c'è anche da dire che hanno due costi un po diversi perché questa lampadina costa 120 euro quindi ha un bel costo rispetto al flash che costa ormai 600 euro e ha una lampadina inclusa la lampadina costa ben 120 euro mentre la lampadina dell'SK402 costa solamente si fa per dire 55 euro quindi hanno due costi ben diversi una ulteriore cosa che vi segnalo sempre riguardo alla lampada è che la lampada non include in realtà la luce pilota non so se riuscite a vedere ma vedete quel dadino giallo che sta sotto alla lampadina quella è la luce pilota ed è una luce led che è incapsulata nella testa flash quindi noi non andremo a sostituire la luce pilota la luce pilota è una luce led che sta sempre dentro nel nostro flash andremo a sostituire solo la lampada del flash quindi la lampada che produce il lampo vero e proprio anche questa è una distinzione importante perché per esempio su tutte le altre versioni in mio possesso perlomeno quindi l'SK402 ma anche la QS402 noi abbiamo la nostra lampada per il flash e abbiamo poi una lampada in più che fa da luce pilota che si avvita proprio in una posizione diversa in questo caso sono separate e la luce pilota sta sotto ed è incapsulata direttamente nella testa flash quindi questo è importante ve lo segnalo ultima cosa che vi faccio vedere prima di chiudere questo video recensione infinito è che qui sotto sotto alla nostra testa flash abbiamo un piccolo slider di sgancio io vado a farlo scivolare con le mie dita e a questo punto posso staccare la mia batteria dalla mia testa flash a questo punto io posso andare a riporre i due pezzi all'interno della sua valigetta ed è pronta per il trasporto considerazioni finali su questa testa flash allora se avete seguito un po dei miei contenuti saprete che quasi tutte le mie luci sono godox io in questo momento sto usando una luce led godox per fare questa striscetta blu che vedete sempre sul mio faccione sto usando un led godox che mi illumina con un beauty dish quindi sto usando tutta illuminazione di questa casa produttrice quindi è un prodotto che a me piace molto io ho cominciato con i flash godox perché ho scattato con tanti flash diversi nel corso degli anni nei vari studi fotografici in cui mi sono trovato ad andare a lavorare quando si è trattato di scegliere dei flash per me stesso sono andato direttamente su godox perché mi è piaciuta la gamma di prodotti e mi è piaciuta la comodità di utilizzo nel senso che con questi flash io ho la possibilità per esempio di comprare un singolo trigger in questo caso è l'x pro c è un trigger che io adoro perché ha un display bello grande tutto sommato che mi consente di controllare tutti i miei flash quindi io posso mettere dei flash a lavorare in serie in parallelo posso gestire la potenza di ogni singolo flash posso mettere ogni flash in un gruppo diverso ovviamente c'è un numero limitato di gruppi però intendiamoci non si lavora quasi mai con cento flash di solito si lavora con uno due quattro flash questo trigger ha cinque bottoni per i gruppi quindi già sta superando la capienza massima che io credo che andrò mai a utilizzare in tutta la mia vita perché io non credo che andrò mai a utilizzare otto flash ne utilizzerò quattro proprio negli shooting più complessi ne uso quattro ma vi dico che anche per delle cose abbastanza complicate io tendo a usare due flash di solito ne uso quasi sempre due perché comunque con un pannello riflettente piuttosto che con una buona soluzione di posizionamento si riescono a risolvere tanti problemi laddove introdurre continuamente nuove luci non fa che andare a crearne invece di problemi perché ogni luce che io aggiungo sto togliendo ombre e quindi alla fine mi ritroverò una scena troppo chiara e non capirò più niente perché c'è troppa luce sul set questo trigger copre tutte le possibili casistiche che io mi sono trovato ad affrontare con questo flash negli ultimi tre anni tre anni e anche quattro forse quindi è veramente veramente vorto versatile e soprattutto la comodità di dire io se rimango nel parco godox tutte le teste flash che io vado a prendere saranno compatibili con questo sistema quindi io vi dico che per esempio mi capita anche abbastanza spesso di mettere in serie la d400 pro con l'SK402 con il QS402 e funzionano tutti insieme funzionano tutti benissimo rispondono perfettamente quindi è una comodità incredibile io non devo più fare il giro del mio set andare a regolare a mano la potenza di tutti perché posso gestirli tutti direttamente dal trigger collocato sopra alla hot shoe della mia della mia fotocamera quindi è una comodità veramente pazzesca ovviamente non è che tutte le teste flash di godox sono compatibili con questo sistema bisogna andare a controllare di volta in volta perché ci sono alcuni modelli un po più vecchi o magari alcuni modelli un po più carrozzoni magari che questa modalità non ce l'hanno bisogna andare a verificare che il flash che stiamo acquistando sia compatibile con il trigger wireless altrimenti ci andiamo a dare una solenne zappata sui piedi perché poi dobbiamo utilizzare un altro metodo dobbiamo utilizzare magari la modalità slave vi linko nella card un video precedente in cui vi parlo di un piccolo problema che ho avuto con la modalità slave perché la foto cellula posta sopra la nostra testa flash va a leggere il lampo di altri flash ma ha una taratura tale per cui se io sto lavorando nell'oscurità in una stanza oscurata in uno studio non ci sono problemi ma se io sto lavorando in un salone con magari una finestra una vetrata insomma se entra della luce ambientale quella luce ambientale va a interferire con la lettura corretta del lampo è come se andasse in saturazione cioè il flash dice c'è già così tanta luce che quando arriva il lampo non lo leggo più questo è un problema se stiamo lavorando in modalità slave quindi io innanzitutto vi sconsiglio di lavorare in modalità slave fate un piccolo investimento spendete un centinaio di euro e compratevi il suo trigger dedicato perché non ve ne pentirete vi permette di lavorare meglio di essere più professionali di non avere problemi di sincronizzazione di questo tipo è vero che ogni tanto ci si impigrisce e nel video che vi linko e ve ne parlo io stesso io sono stato il primo a impigrirmi a dire ma sì dai questa volta il trigger non lo porto tanto scatto in modalità slave con il mio flash l'ho fatto una volta in cui ero in emergenza perché il trigger aveva le batterie scariche quindi ho detto vabbè utilizziamo un altro lampo per far partire tutte le teste flash visto che il trigger sta avendo qualche problema di batteria e non avevo voglia di andare a comprare delle altre batterie quindi in quel caso me la sono cavata così successivamente mi sono impigrito ho detto vabbè dai ma me la sono cavata così una volta posso farlo ancora invece no bisogna utilizzare il trigger perché è una soluzione migliore innanzitutto perché ci consente di lavorare senza introdurre un secondo terzo quarto lampo che potrebbe generare della luce parassita quella non è la soluzione migliore per i nostri scatti la soluzione migliore è avere il trigger dedicato che fa partire tutte quante le nostre teste flash contemporaneamente una sincronizzazione perfetta senza nessun problema e se ci fossero problemi di interfaccia tra il trigger e le teste basta andare ad agire sui gruppi sui canali o addirittura sull'id univoco tra testa e trigger in maniera tale che eliminiamo qualsiasi problema di interferenza a questo punto devo specificare una cosa io purtroppo non prendo soldi da godox quindi quello che vi ho detto che mi piace di questo flash mi piace veramente e se mi avessero offerto dei soldi per dirvi le stesse cose li avrei accettati perché i soldi fanno sempre comodo e avrei detto fondamentalmente le stesse cose se vi devo dire qualcosa di negativo su questo flash ovviamente non ha una velocità di ricarica pazzesca nel senso che esistono delle teste flash magari di profoto o di altre case che sono più veloci se state cercando qualcosa di performante da quel punto di vista che vi permetta di fare delle raffiche pazzesche di nuovo magari questa non è la soluzione migliore per me più che sufficiente perché come non mi stanco mai di ripetere io le raffiche non le faccio non amo quel modo di lavorare preferisco farne una buona piuttosto che dieci così così vi consiglio di fare altrettanto nel senso che se volete fare qualche lampo qualche raffica va bene qui fino a un lampo al secondo riuscite a farne se volete qualcosa che performi oltre il lampo al secondo di nuovo questa non è la soluzione migliore anche se comunque se state cercando un flash entry level o medio professionale questa è una soluzione eccezionale quindi non credo che il problema sia il numero di lampi perché poi quella è una cosa che si va a fare una volta nella vita secondo me quasi dimenticavo una cosa che non vi ho fatto vedere questo è il tappo originale perché nel momento in cui apriamo il prodotto il flash monta il suo adattatore godox e questo qui è il tappo dell'adattatore godox ovviamente avendo montato l'attacco bowens io questo non lo posso più mettere su quindi lo tengo nella scatola non lo posso più montare perché non si incastra più sulla monta bowens questo non si attacca quindi niente lo tengo lì e diventa sostanzialmente un posacenere un qualcosa cioè non lo si usa più però c'è anche da dire che vista la valigetta da trasporto e visto che comunque l'abbiamo pagato 600 euro quindi ci staremo molto attenti non abbiamo così bisogno di quella protezione davanti perché comunque andremo a mettere un modificatore che andrà a proteggere la nostra lampada durante lo shooting e quindi siamo assolutamente tranquilli durante il trasporto la lampadina non ha nessun modo di toccare nessuna superficie perché è immobilizzata all'interno della valigetta da trasporto anche il fatto che in questa soluzione venga fornita una valigetta da trasporto con dentro la sua fodera di gomma che tiene fermo ogni singolo pezzo è una cosa veramente da non sottovalutare e che io personalmente ho in grandissima considerazione intanto perché ci evita di dover dire ok adesso compriamo anche la borsa quindi hai speso 1000 euro di flash e poi dici adesso spendo 200 euro per la borsa no qui è già inclusa quindi tanta roba grazie godox a questo punto io direi se avete domande specifiche vi aspetto nei commenti qui sotto e spero di riuscire a rispondervi perché vi ho detto tutto quello che sapevo su questo flash quindi se mi fate delle domande dovrò andare a leggermi il libretto di istruzioni per capire che cosa mi avete chiesto in più non abbiate paura di mettermi in difficoltà perché tutto sommato mi diverto anche a questo punto non mi resta altro da fare se non consigliarvi di iscrivervi a questo canale perché se avete seguito la serie sui flash godox probabilmente vi interesseranno anche le luci led di cui andrò a parlare nei prossimi video senza contare che abbiamo un po di modificatori carini da vedere qui quindi il bottone è qui sotto aspetto i vostri click mettete anche un bel like a questo video perché se stavate pensando di acquistare una soluzione flash di questo tipo sono sicuro che questa mini recensione può avervi dato una bella panoramica di quelle che sono le possibilità di questo bellissimo strumento io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video